Se il tuo cane si insegue la coda, guarda attentamente questo video. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Nel video di oggi ti voglio spiegare del perché alcuni cani si inseguono la coda. Devi sapere che se anche il tuo cane ha messo in atto uno di questi comportamenti, dovresti accendere un campanello d'allarme. Infatti, quando i cani si inseguono la coda, potremmo essere vicini o incontro ad un problema comportamentale. E questo problema comportamentale può nascere da un disagio o un disturbo che il cane vive quotidianamente. Nei momenti in cui vedi il tuo cane mettere in atto questo atteggiamento, non dovresti mai rimproverarlo, ridere di lui o andare in qualche modo a rinforzare quel dato comportamento. Perché in questo modo per il tuo cane diventerà qualcosa da riproporre in più e più volte durante l'arco della giornata. Nei casi più estremi, quando ci troviamo davanti a questo comportamento, andiamo a definirlo come un disturbo ossessivo compulsivo. Di fida se mai dovessero dirti o consigliarti che dovresti tagliare la coda del tuo cane. In passato mi sono sentito dire anche che il veterinario ha consigliato questa pratica e il problema è solo aumentato e peggiorato. Fammi sapere se conoscevi questo tema nei commenti, ricordo di seguirmi e di lasciarmi un like.